Sì, n'entra casa! Tu che vuoi? Vieni dai suoi mavi Fatti, andiamo al massimo il caldo e poi andiamo bene Cosa di te vogliono mangiare se la polenta? Eh, ma poi scendono Gaby! 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 Torno! Ehi, questo c'è Gaby! Ehi, fatemi vedere che avete preso un panico Ehm Luca stai facendo la polenta? Gaby! 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 pietra fulgando da tutto il pezzettino 3 venga ragazzi piace un po' di i moteri 0 un po' di gioco il volto ok roma ho fatto il loro mandorale io domani ho giratato sulla non sopporto ho dato il mio avvento di aerea così non sopporto proprio la vita